Ted Neely, Jesus Christ Superstar, l'iconico musical di cui sei stato protagonista per 50 anni si può dire, per la prima volta non sarai in scena, quindi questa decisione di non essere più Gesù e di lasciare il testimone a Lorenzo è stata una decisione sofferta, ti capita di ripensare ancora e farti venire qualche dubbio che magari invece vorresti ancora interpretarlo? E' vero che ha trovato qualcuno che si sente davanti a fare questo role, e io credo Lorenzo va diventare l'attuale rappresentazione di Gesù da ora, perché è così talento, e non è un'unica felice perché non è in la show, at all. Senti, però Massimo ha provato comunque a farti rientrare dalla porta di servizio proponendoti il ruolo di Ponzio Pilato, ci hai pensato, ma alla fine hai detto no. Non è che non volevo fare un pilota, ma non mi sentivo che era il giro di farlo in questa circostanza, perché le persone vedono un nuovo uomo in questo ruolo, e non volevo fare nulla cosa che potrebbe affrontare lui, e sicuramente non che l'audizione sia, beh, potrebbe essere l'altro ragazzo, o che sia l'altro ragazzo, che sia l'altro ragazzo, sai? Senti, Massimo ci ha confessato che, diciamo, durante questa prova quasi generale, con tutti con i costumi sul palco a cui tu hai assistito insieme a lui in platea, hai pianto tutto il tempo vedendo il tuo musical senza te sul palco, che emozione è stata? La ragazzo per me è stata un'unica per me, perché non ho mai venuto a una ricostra di Superstar, perché non ho avuto una ricostra di una ricostra di Superstar, e quasi tutti i casti che ho lavorato con prima qui in Isra, come la band, la crew, tutti, quindi è una grande, bellissima Superstar famiglia, e potrebbe essere capito come si è stato creato di Massimo, con il suo concetto visibile e spirituale di questo, è incredibile. Il ha fatto così molte volte, durante i ultimi 30 anni, e ancora ogni volta che fa, è nuovo, è ancora nuovo, e questo è come mi sento quando faccio il ruolo. Non è mai vecchio, non è mai vecchio, è sempre una nuova, meravigliosa esperienza, quindi sono molto felice che il mio amico e frate, Massimo Pipero, hanno trovato un modo di continuare, e lo supporto un mila percentuali. Senti, l'anno scorso si sono festeggiati i 50 anni del film del 73, quindi non posso non chiederti anche un ricordo di quello che fu il regista di allora, Norman Jewison, che è scomparso proprio quest'anno. Quindi anche un ricordo di lui, e di come comunque poi quel film ha segnato indelebilmente anche tutta la tua vita. Norman Jewison, magnifico, meraviglioso humanità, ha già passato, questo è dicembre, 97 anni fa, e ha dato tutti noi che eravano nel film una nuova vita, perché tutti in cui erano in l'occhio, non aveva mai avuto in un film, excepto per Barry Denon, che era Pontius Pilate. Barry aveva fatto Fiddler on the Roof con Mr. Jewison, proprio prima di Superstar, e abbiamo lavorato, Barry e myself e Carl Anderson, in la Broadway show of Superstar, prima di essere in un film. e quindi la sua tutta è stata una donna, un'onoraria, 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 un'onoraria gift per noi per essere un un'onorario. Ora, Mr. Jewison, che avessi fatto il film in un deserto, un'onorario in un mondo, ma è stato un'onorario, ciò che è stato l'onorario, dove il stato per l'onore, a sé in cui erano. Ma siamo in l'onore, in un'onore, I swear when I was walking in the sand I thought I was walking in Jesus' footsteps It just, the inspiration was just all around us And this was at the end of the Six Day War You see, but it was still trailing going on I mean, Mr. Jewison told us Because we hadn't done any films What you will hear most from a director in a film Is action and cut But he said for this production It will be action, cut and hit the dirt Because his plane were flying over there He was wonderful, dear, dear friend Perfetto, allora chiudiamo, salutandoci Le chiedo, fra cento anni Quando si penserà a Jesus Christ Superstar Ma soprattutto quando si parlerà di Ted Neely Fra cento anni, come le piacerebbe essere ricordato? That's comparing, shall we say What is being done today With this new magnificent singing actor That we all don't yet know how he's going to You see, don't misunderstand me The fact that he's doing what he's doing With only one week of rehearsal Is a miracle So he is going to make magnificent things happen For this show And I can be even more proud and honored That I was a part of it Now that he's going to take over that role That's wonderful And he deserves that So, but Norman Jewison, for example If it hadn't been for him It probably never would have been a movie He heard that first album And fell in love with it And decided to make a film You see, nobody else was interested In making a film None of the studios were interested in releasing it They told him You're wasting your time Don't do it But he did it And look How many films do you know of That have lasted for 50 years And still on the streets In the movie houses It's just I'm still amazed And the fact that I met my wife in Israel When we were making the film That changed my life completely Ok, allora Grazie e complimenti Many thanks Thank you so very much